Poco più di due ore di tecnica e tattica applicata alla GSM Forum di Verona, assieme ai padroni di casa della Calzedonia, di fronte a oltre un centinaio di spettatori. L'allenamento congiunto svolto in serata, ospite della formazione scaligera, si è rivelato utilissimo per sciogliere muscoli e testare la condizione fisica dei giocatori di Trentino Volley, che hanno sin qui sostenuto la prima parte di preparazione. Alla fine i due allenatori hanno scelto di svolgere tre set classici, due partendo dal 5-5 e l'ultimo da 0-0 fino al quindicesimo punto, inframezzati invece da esercizi in fase di breakpoint su situazioni particolari, in modo da fornire ai propri effettivi molte occasioni per lavorare sulla tecnica ma anche sulle dinamiche di squadra. Il risultato finale, 2-1 per Verona, con parziale di 27-25 e 22-25 e 15-13, è stato, come sempre accade in questo periodo della stagione, l'aspetto che meno ha interessato a entrambi i tecnici, anche perché Lorenzetti ha potuto schierare in campo uno starting six con soli 5 giocatori della Nuova Rosa, al cospetto invece di un sestetto come quello provato da Stoicef, composto interamente da elementi che vestiranno la maglia di Blue Volley. Per l'Itas Trentino le cose migliori sono arrivate dal muro a segno 11 volte e da Vettori, che ha chiuso la sua prestazione mettendo a terra 29 palloni con il 49% a rete. È ovvio che adesso siamo pochini, quindi non è che ci si può aspettare tantissimo, gli ho chiesto delle cose sulle quali abbiamo lavorato, per lunghi tratti ci sono stati, dopo quando un po' la stanchezza si è fatta sentire le attenzioni sono un pochettino calate, però insomma è stato un buon venerdì. Dopo Verona la squadra ha concluso la terza settimana di preparazione a Trento con un allenamento nella sala pesi della BLM Gruppa Arena.